I bassi pulsano le vibrazioni dello stomaco che rendono indomito al punto che riprendo tutto ciò che ho fatto visto che ho sentito metto in dubbio subito le sensazioni che ho provato disperato tanto che ricanto vecchi pezzi con costante giusto per vedere se è rimasta la sostanza in voto mi compiaccio, fido tono straccio pericolo di contagio e che c***o stai aumenta il contrasto, alza un po' il volume, regola il colore, sintonizza il canale mi sembra normale, fatto che il contratto è un patto va rifatto non capisco affatto, non parlatevi di affetto, ogni concetto ho detto è chiuso in un confetto, ridetto sì, mi ho detto, ammetto che è contesto passo dopo passo, continuerò lo stesso, ma per adesso vuoi i propositi in eccesso, chi c'è con te adesso? con te che ti è concesso? che ti ha detto che ho spesso? con te, lo stesso chi c'è con te adesso? cos'è che ti è concesso? che ti ha detto che ho spesso? questo, con te, lo stesso l'importante è essere se stessi in ogni caso resto sempre acceso, invivendo rimancheso rimarrò rinchiuso fino a quando potrò farlo e tutto quanto, almeno per raccontarlo ragazzi, rifatti di un esame di coscienza giusto per sapere che mi ha fatto, fino a stronzo dico cose senza senso, prima parlo e non ci penso ma nel frattempo continuerò a danzare su sto mare adesso ad altri divoli detto vero a pacchi unicolo è rimasto dentro sta partita a scacchi resterò un demonio, non ce ne ho compreso sono passati un tot di mesi e che che si è arreso continuerò a lottare tutto quanto a spese mie continuo ad avanzare pure senza garanzie messo come sono messo, avanzerò lo stesso ma per adesso io risalgo dal basso chi c'è con te adesso cos'è che ti è concesso che ti ha detto che ho smesso questo è con te, lo stesso chi c'è con te adesso cos'è che ti è concesso che ti ha detto che ho smesso questo è con te, lo stesso metamorfosi completamente sa scalata le pressioni mi accompagnano ogni mia stronzata e le tima puntata il problema è che mi giuro al cazzo per il fatto che non ho la mia vita privata resterò a difendere Cassandra lo commenta giusto per capire la gente che cosa pensa penso a vecchi momenti passati ormai con gli anni anni di condanna in più condizionale danni, accento ogni protesta incattato a bestia ed ogni volta mi imparato tanto alzare la testa restano ricordi che ti fanno capire quel che sei praticamente una versione ancora più psicopatica di Norman Bates resterò coerente a tutte le mie idee a quelle delle mie gente mossa dopo mossa io giocherò lo stesso per adesso io rimango a me stesso chi c'è con te adesso con te che ti è concesso che ti ha detto che ho smesso questo è con te, lo stesso chi c'è con te adesso cos'è che ti è concesso che ti ha detto che ho smesso questo è con te, lo stesso questo è il secondo è più grave no non 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 Grazie.